Tanto tempo fa una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparvi allora il gran pipistro la salutò con calore mordendosi un'ala. Vieni bambina placa la tua sete le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparvi allora lo scuro tessitore che schioccando le dita confezionò un bel abito fatto di nebbia. Vieni bambina riscaldati le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparvi allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. Vieni bambina riempiti lo stomaco. Lei mangiò e ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare giunse nello scuro cuore della foresta. Apparvi allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparvi una strega tenebrosa e regale. Hai ricevuto dei doni ma hai voluto di più ringhiò. Di più ora ci è dovuto. In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto sei mesi. I libreri hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora. Grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato. Ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico Ethan. Non è... lascia stare. Scusami. Ma non sono paranoico. Sono solo prudente. Allora... metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla Rose. Tua madre non vuole ricordare. Me non la piasimo. Hai detto qualcosa? Niente! La metto a letto! Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Ci siamo quasi. Ecco tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. non vorrei. Con quello che ho visto non è paranoia. Vorrei che il tempo si fermasse. Bisogna pulire prima che Rosie inizia a camminare. Se ne sono dimenticati tutti. Grazie. 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 Sta dormendo. Mia ha comprato un altro libro. Oh mia, è un miracolo. Tre anni fa non avrei mai immaginato che potesse succedere. Tutto a posto? Sì, dorme come... come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba di legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. È che ritrovarti in Louisiana. La gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa... Vedrai che... adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Mia! Mia! Oddio! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rosa, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna il sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan! Non! Non! Fuori di qui! Dottoressa! Salve, signor Winters! I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta, sei positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisco… Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Cristo… E ora, Cato? Qual è la situazione? La consegna al sicuro? Di cosa stai parlando? Dov'è Chris Redfield? È Rose! Chi va? Questo è un canale riservato. Non hanno ancora entrato a me. Cazzo… Vediamo l'è successo qui. Vediamo l'è successo qui. Grazie a tutti… Sì. 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 Cos'è successo? Ma dove diavolo mi trovo? Sì.